il treno regionale 59 51 di trenitalia proveniente da calalzo pieve cadore cortina e diretto a belluno delle ore 7 e 11 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a ponte nelle alti il treno regionale 59 50 di trenitalia proveniente da belluno e diretto a calalzo pieve cadore cortina delle ore 8 e 12 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a perarolo di cadore il treno regionale 11 104 di trenitalia proveniente da padova e diretto a calalzo pieve cadore cortina e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a perarolo di cadore il treno regionale 11 109 di trenitalia proveniente da calalzo pieve cadore cortina e diretto a padova e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni